Narsinap celebra gli infermieri sardi. Migliaia di professionisti che sostiene il sindacato in questi mesi hanno lottato con tutte le proprie forze per garantire la salute dei loro corregionali nel pieno della pandemia da covid-19. Il ringraziamento arriva in occasione della giornata internazionale dell'infermiere e assume un valore speciale quando si valutano, sottolinea Narsinap, le tante difficoltà affrontate all'interno di un sistema ospedaliero reso fragile da tagli e carenze di personale. Alla già problematica gestione dell'ordinario si è aggiunta l'eccezionalità causata dal coronavirus. Dalla rimodulazione emergenziale dei reparti alle continue criticità nei percorsi, il personale sanitario è stato esposto a un forte stress psicofisico. Una tensione vissuta non solo tra le mure ospedaliere ma anche tra quelle domestiche. È stata del grande la paura infatti di poter contagiare i propri familiari. Alto quindi il prezzo da pagare per gli infermieri sardi che hanno però affrontato questa battaglia, sottolinea il sindacato, senza risparmiarsi e mettendo al centro della propria vita la salute dei pazienti e la sicurezza della comunità. Per tutti questi motivi Narsinap li ringrazia e sostiene avendo la certezza, come rimarca nel comunicato, che gli infermieri sono e saranno sempre uno dei pilastri fondamentali del sistema sanitario regionale e che una loro futura valorizzazione sia la base del futuro della sanità sarda. Grazie. 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 Grazie.